La quarta sorella della famiglia 90 è la Racer, con la sua semi-carrenatura che si ispira alle moto da corsa anni 70. La meccanica è condivisa con la R90 Pure, salvo per il fatto che l'esemplare che abbiamo qui davanti ha parecchi accessori, quindi i cerchi non saranno a raggi ma sono in lega come quelli della Pure. Lo stesso dicasi per tutte le parti speciali come il carbonio che non sono presenti sulla versione di serie, ma sono presenti su questo esemplare da esposizione. La differenza è ovviamente il manubrio più sportivo e la strumentazione che ha due strumenti e non uno come quello della Pure.